Nella Palermo dell'epoca di fine 800 e dei primi del 900, la pittrice giapponese Otama Kiyohara è stata pioniera di un percorso artistico, culturale e didattico votato al progresso e all'innovazione. Quello che era il suo sogno visionario pronto ad essere realizzato si incontrò con quello dell'artista siciliano Vincenzo Ragusa, infranto dall'apatia delle istituzioni dell'epoca, un sogno artistico che rivive oggi almeno in parte al Palazzo Reale di Palermo. I due artisti, simbolo dell'incontro tra occidente e oriente, segnarono la storia dell'arte in Sicilia e non solo. Ragusa era un affermato scultore siciliano, Otama muoveva i primi passi nell'arte nipponica come pittrice raffinata. Cominciò così un sodalizio umano e artistico che dal Giappone si trasferì in Sicilia con una contaminazione di stili, tecniche e colori. Migrazione di stili è il titolo della mostra che rimette insieme i frammenti del lungimirante progetto di Otama e Ragusa, i due artisti che cercarono in vano di dare vita ad una scuola-museo. Tra le 101 opere esposte sono stati restaurati ben 46 acquarelli, 6 cartoni, i noti Kinkawa, Gami e 18 tessuti. Questa mostra è veramente unica, eccezionale. Si concentra su questo arrivo a Palermo nel momento in cui fiorisce questa cultura mista, questo ponte.